Siamo pronti per partire, con un piccolo ritardo dovuto a questa riunione con il sindaco assessore che è stata decisamente utile e soprattutto produttiva, speriamo, i prossimi mesi. Quindi senza induzio direi che partiamo, questo è il primo passo della campagna Fermiamo Arlan, ce ne saranno, speriamo, tanti altri, fino a che Arlan, come già alcuni altri stabilimenti, alcune altre aziende, pian piano non cederà e cederà al passo a una ricerca scientifica moderna e a non a una ricerca scientifica che ha le sue radici nel medioevo, nel 600, 700 e 800. È il primo passo, un passo, voi sapete benissimo che è quello della petizione. Sul sito trovate la possibilità di firmare la campagna Fermiamo Arlan, siamo arrivati a circa 1.900 firme, abbiamo iniziato da poco, speriamo di incrementare, di incrementare con azioni e con le firme, per cui oggi soltanto il primo passo di una lunga battaglia che speriamo non debba durare tanto perché Arlan possa cedere al suo presto. Grazie a tutti per la partecipazione, arrivederci a più presto. Grazie a tutti.